Tommaso Cancellotti, allora come si può giudicare questo pareggio? La domanda che si facevano in tanti, un punto guadagnato o due punti persi? Da come si era messa la partita sicuramente un punto guadagnato. Eravamo sotto di 2 a 1, siamo stati sotto per due volte, siamo stati bravi a riprenderla. E' stata una partita comunque equilibrata, loro sono una squadra organizzata e sicuramente il nostro approccio non è stato dei migliori. In settimana sicuramente valuteremo e lavoreremo insieme al mister sulle cose che ci sono da limare. Possiamo dire, Tommaso, che per la prima volta in questa stagione il Pescara è stato un po' in difficoltà al cospetto di un avversario? Sicuramente sono venute fuori alcune difficoltà. Noi abbiamo provato a fare la nostra partita, poi ripeto, sicuramente l'approccio non è stato dei migliori e questo ha messo un po' la gara in salita. Non è tutto da buttare, c'è stata la reazione per due volte, non è scontato, soprattutto, ripeto, con una squadra organizzata così, quindi continuiamo il nostro percorso con la testa bassa e con tanto lavoro. Questa squadra continua a prendere gol, accade dalla prima giornata di campionato, otto reti al passivo in sei giornate, sono obiettivamente troppe per una squadra che mira a provare a vincere il campionato. Sì, sicuramente bisogna lavorare e limare alcune cose, come ho ripetuto prima, ogni campionato a sé, ogni storia a sé, sicuramente abbiamo subito un po' troppi gol, però la classifica è buona, quindi continuiamo a lavorare senza guardare in questo momento, la classifica conta poco, allenandoci su ciò che c'è da migliorare. Per chiudere, in maniera sintetica, ti chiedo, domenica arriva allo stadio triatico La Reggiana, ci vorrà un Pescara diverso da quello visto questa sera al Barbetti? Sì, senza ombra di dubbio, comunque ci saranno delle situazioni che andremo a vedere, ci sarà la partita da preparare, ora ci pensiamo già subito da domani e prepariamo questa partita per riscattare anche magari la prestazione un po' meno brillante rispetto alle altre. Grazie. Grazie. Grazie.